Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Isabella Mancini. Code e rallentamenti sulla A1 tra Firenze Nord e il Bivio per la variante per traffico intenso. E in direzione Roma, tra Firenze in Planeta e in Cisareggello, sempre per traffico intenso. Reduzione di carreggiata per lavori tra Pisa Nord e la variante di Viareggio in entrambe le direzioni, dal km 343 al 344 fino alle 24 del 13 settembre. Sulla statale 12 della Betone del Brennero fino al 10 agosto, senso unico alternato per lavori tra Lucca e la variante di Punta Moriano. Scambio di carreggiata per lavori tra il km 17.2 e il 19.5 tra Colle Valdelsa Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione Firenze con conseguente chiusura dello svincolo di Colle Valdelsa. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.